La gastronomia in Italia e soprattutto qui dove ci troviamo a Conegliano rende una funzione importante per diversi motivi. Il primo perché trovi le cose sfiziose che magari non trovi da nessun'altra parte. Poi il tempo, il tempo è molto prezioso perché chi arriva a casa magari verso mezzogiorno e deve andare a lavorare magari alle 13.30, va in gastronomia, prende quello che gli serve, una scaldatina oppure già pronto ed è fatta. Oppure anche se ricevi amici e all'ultimo momento ti chiamano, siamo qua, veniamo a trovarti e ti trovi a scarso di alimentazione, vai sotto casa c'è la gastronomia e ti risolve il problema. Noi abbiamo scelto le gutte qui a Conegliano di Antonio Venturin che è qua con noi, versione estiva stavolta. Versione estiva, sì esatto. Da dove iniziamo? Guarda, mi hai preparato un parterre di cosino. Sì, abbiamo preparato vari tipi di insalate da mangiare fredde, dall'insalata di mare alla pasta fredda, un'insalata d'orzo con del pesce e delle verdurine, un'insalata di piovra, poi abbiamo preparato la crespella appunto in versione fredda. Per un aperitivo. Un aperitivo, è sempre uno scherzichino gradevole, insomma oggi l'abbiamo fatta con dello speck della rucola e del formaggio grana. Il pasticcio lo vedo lì che è pronto già. Il pasticcio, sì, in questa stagione abbiamo pensato di metterci degli asparagi, un formaggio giusto per non fare una cosa troppo impegnativa. Una scaldatina e via, insomma. E il vitello. Il vitello tonnato che è il classico che non può mancare e poi la fritturina di pesce che è una cosa sempre sfiziosa e anche un po' più difficile diciamo anche farla a casa. Il fritto, guarda, mette a posto tutti. Perché c'è questo richiamo di mare, tu sei qua con le colline più belle del mondo, dell'UNESCO. Però un po' di mare non guasta neanche in collina. Parlano tutti bene di te, sembra che tu sei nato per fare questo mestiere. Noi diciamo di continuare a lungo perché ognuno nasce portando avanti la propria missione, il proprio destino. Allora venitelo a trovare qui le gutte di Conegliano, Antonio Venturini insieme a tutta la sua famiglia e la mamma, che è la mamma che prepara anche queste cose qui, ti dà una grande mano. E lui è veramente un professionista dell'enogastronomia. Ciao a tutti, vi aspetto, grazie. Ciao a tutti, vi aspetto.